Noi siamo Matteo, Veronica e Ilaria, siamo i designer di SuperDuperHeads. Abbiamo creato il marchio sei anni fa ormai e abbiamo iniziato dalla nostra passione personale per i cappelli e di lì abbiamo sviluppato tutto quello che è il brand negli ultimi anni. Tante volte ci sentiamo dire a me piacciono davanti i cappelli ma non ho lo stile giusto per indossarlo. Noi appunto abbiamo cercato di rompere un po' questa tradizione sul sentito dire del cappello proponendo appunto un prodotto che andasse contro questa tendenza del cappello indossabile solo quando si è ad una cerimonia. Il cappello è diciamo tra gli accessori il più speciale, il più particolare. Less is Better ci è piaciuto subito perché sin dal primo momento appena lo pronunci ti dà quell'idea di freschezza, di nuovo e di appena scoperto. È quello che appunto è l'essenza del nostro lavoro e della collaborazione che abbiamo intrapreso con Kiko.